E' un'iniziativa che dietro il... Presentato questa mattina nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, il risultato della campagna di crowdfunding che si è conclusa nel mese di dicembre. 8 dei 10 progetti partecipanti hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta economica. L'iniziativa è stata riproposta dopo successo ottenuto nella prima edizione con la raccolta di 109.000 euro a favore di 13 progetti. E' un segno tangibile che il percorso avviato deve proseguire, evidenziato il presidente Giorgio Gragnola, perché rende partecipe la comunità sulle iniziative che vengono promosse, impone alle associazioni di avviarsi verso un progetto per poi condividerlo in rete, oltre ad avvicinare anche i giovani al mondo del volontariato. Oltre 146.000 euro sono stati raccolti sul territorio di riferimento della Fondazione per questi progetti che sono stati parte del bando crowdfunding, ai quali si aggiungeranno altri 80.000 euro che la Fondazione mette a disposizione. Quando ci sono dei progetti ben comunicati, strutturati, nell'ambito del terzo settore, nel settore del volontariato, della filantropia, della beneficenza, poi troviamo persone capaci di parteciparvi e di dare il loro contributo. È una garanzia ulteriore che la Fondazione riceve con questo significativo atto da parte della cittadinanza e di tutta la comunità del territorio che ha deciso di contribuire alla realizzazione di questi progetti perché è un vaglio importantissimo. Non è la Fondazione che nel suo splendido isolamento decide chi finanziare e in che misura, ma è il territorio che premia i progetti che vengono presentati. Grazie alla Rete del Dono, che è la piattaforma informatica sulla quale sono stati poi presentati questi progetti, grazie al Centro Servizi del Volontariato, grazie a tutti quelli che anche in Fondazione si sono adoperati per realizzare questo significativo risultato. Il progetto che ha ottenuto più contributi è quello presentato dall'Associazione Vivere Sereni, la quale ha raccolto più di 55.700 euro, ai quali si aggiungono 10.000 euro della Fondazione. Sono diretti al diversamente abile, all'anziano, facendo un servizio di collaborazione fra le due persone, l'anziano saggio, il disabile che va aiutato, l'anziano che può aiutare, trasmettere i vecchi valori, trasmettere i mestieri che vanno perduti, coinvolgere le scuole nel nostro centro, in modo da far cultura per poter cambiare questo rapporto tra popolazione diversamente abile e anziani soli. E nel vostro intento c'è proprio la realizzazione di un centro diurno? Il primo step è quello di costruire un centro diurno che è già stato, diciamo, è pronto per essere cantierabile e partirà penso a metà di quest'anno. In futuro poi c'è la possibilità di fare un residenziale, a seconda, diciamo, dei bisogni del luogo. E questo è nato proprio raccogliendo i bisogni degli abitanti della Valle del Metauro. Dove verrà realizzato? Verrà realizzato nel vecchio comune di Montemaggiori, in via Carbonara, località San Liberio, che è molto vicino all'uscita della superstrada, quindi è anche un'ottima locazione. L'associazione Onfalos Autismo e Famiglia ha invece presentato il progetto Tutti Insieme per ampliare l'offerta formativa rivolta ai bambini. Attualmente sono 40 quelli seguiti. Vengono organizzati incontri settimanali da 2 a 4 con un rapporto 1 a 1 con l'educatrice. A questa iniziativa si aggiunge un progetto motorio. Ha partecipato anche la Caritas per contrastare la povertà educativa e per colmare le fragilità socio-economiche delle famiglie con minori dai 6 ai 17 anni. L'Africa Chiama invece destinerà i fondi a Facciamo Parte, che ha lo scopo di promuovere il protagonismo giovanile nell'era post-pandemia attraverso i laboratori e il volontariato attivo. Ad illustrare il progetto anche Donatella Menchetti di Adamo, la Ollus, metterà in campo un fisioterapista che raggiungerà i malati oncologici per un sostegno fisico e muscolare. In elenco pure l'associazione Argonauta, che gestisce il lago Vicini e che si occuperà di una campagna di sensibilizzazione in ambito naturalistico per lo stagno urbano, mentre Mariposa di Colli al Metauro acquisterà un pulmino per portare anziani e disabili a vivere la vita. Tra le uscite, quelle a teatro, al ristorante e al mare, in passato sono stati accompagnati a Roma per un'udienza papale. La GFI ha partecipato con un progetto che si chiama Facciamoci in Quattro. Di che cosa si tratta? Allora, è un progetto che ha quattro azioni, ha una ricaduta chiaramente trasversale. Le quattro azioni sono l'idrochinesi terapia, l'acquisto di una bicicletta accessibile per garantire alle famiglie un'uscita domenicale o settimanale in libertà con il proprio figlio che può avere delle difficoltà. Inoltre fanno rugby, un rugby integrato, e laboratori motivazionali per adolescenti e chiaramente anche per i fratelli che hanno figli e che hanno, diciamo, delle condizioni di disabilità. Quindi è un progetto che vuol coprire tante realtà in una condizione esclusivamente inclusiva perché la disabilità è parte della vita e come tale deve essere considerata una realtà con la quale ci si deve condividere. E tra le realtà coinvolte c'è anche ASI? Assolutamente, abbiamo avuto dei partner importantissimi. ASI, Fano Rugby, l'associazione Scout Nucci, Sportfly, e quindi, diciamo, sono quelle realtà che rispondono al territorio con delle attività per tutti e la nostra associazione vuole agire in questo senso. L'inclusione è alla base delle nostre attività. L'inclusione è alla base delle nostre attività.